Il mio disagio, andavo in bagno, mi sciacquavo il viso, mi ritruccavo, mi lavavo le mani sempre per nasconderlo Perché continuava a scagnarsi sempre il suo vestito, continuava sempre Perdeva colore in abbondanza Per cui tu ti sei sentita a disagio giustamente, no? Sì Che hai fatto quando sei tornata? Praticamente Sei tornata giustamente se sei con manapazza come diciamo noi a Napoli, no? Sono intossicata perché quel giorno che doveva essere così bello me lo sono rovinato E quindi tu sei andata in questo negozio? Stavo nervosa, sì, e sono andata direttamente in questo negozio per chiedere delle spiegazioni perché questo abito scambiasse così E vediamo che cosa è successo, perché tu sei andata e chiedevi di parlare con il responsabile Sì Cominciamo a vedere che è successo, quindi l'antefatto è questo Lei torna a Caserta, giusto? Sì Che è una città che io amo tantissimo peraltro E ti trasi in un negozio Chiedi di parlare con il responsabile e succede questo Voi mi chiamate il responsabile? Voi mi chiamate il responsabile? E direttore? Tu direi che hai chiamato? Tu sei chiesto da chi chiede l'uomo? Ma che stai a cerire? Questa è una catena con i macchi da piacere E la tutta la testa E la tutta la testa E la tutta la faccia 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi a un certo punto tu sei anche svenuta, adesso lo facciamo vedere, ma quello vicino a te chi è tuo marito? Sì. Sei arrabbiata pulissima. Sì. Questa signora ha il suo modo di chiedere spiegazioni? Mio marito? No, no, dico questo è il suo modo di chiedere spiegazioni? No, in effetti non è questo il mio modo di chiedere spiegazioni. Ma quella bellicetta ci avrà dei poteri che praticamente si è trasformata in una ducola. Ma quella è diventata la signora. Ma quella povera commessa, poverina, cioè io dico, quella povera commessa che si deve assorbire tutte queste sclerate, questo modo incivile, io lo trovo, lo trovo un modo incivile di rapportarsi con una persona. Ma per lei non c'entra niente la feliciata, perché l'amore non c'entra, l'entra, ragazzi. Ho visto che la signora è stata accompagnata dall'avvocato, non voleva mandare una letra dall'avvocato, per la distanza e il disatto che aveva, bisogna arrivare alle mani, bisogna, nel 2018 bisogna comportarla in questa maniera. Aspetta, continuiamo a vedere il video, perché poi vuole intervenire anche Floriana, che sicuramente vuole difendere, sono certa, arriva a sua, vuole difendere Rosanna.